Sai anche chi è il prossimo cantante? Sì. Chi è? Samuele Bersani. Esatto, Samuele Bersani. Non cadere, non cadere. Ciao, benvenuto. Allora, di... Faccio io, provo, eh? Sì. Provo. Di Bersani Donchia, Replay, dirige il maestro Giuseppe Donghia, per l'appunto. Canta Samuele Bersani. Dentro al Replay, fra miliardi di altri ci sei, e non hai scia, luminosa d'auto, anche il Dio periferiai, come i sogni che farai, o prenderai a noleggio, quando ti addormenterai, con le scarpe sul letto. dentro al Replay, con la testa girata un po' in su, da fotografia, ci sei anche tu, prima di andare via. Se rimango ancora qui, è come se morissi, e guardandomi allo specchio, ad un tratto sparissi. Cadono le stelle, sono cieche, e dove cadono, non so, cercherò, proverò, davvero. Ad avere sempre su di me, il profumo delle mani, riuscire a fare sogni, tridimensionali, non chiedere mai niente, al mondo solo te, come una cosa che non c'è, cercando da, per tutto, anche in me, ti vedo. Dentro al Replay, per un attimo c'è, e anche lei, ma in quel momento, qualcosa ho cancellato, si è fermato il tempo, la sua regolarità, è come se morissi, è sparita anche la luna, è cominciata l'eclissi, cadono le stelle, allora è vero, e io non so se ci sarò, dove andrò, non lo so, se lo merito o no, se correggerò gli effetti, dei miei guasti nucleari, se troverò il coraggio, se troverò il coraggio, ti telefono domani, e più sarò lontano, e più sarò da te, dimenticato in un conto, come uno che non c'è, tornerò, tornerò, davvero, a sentire su di me, il profumo delle mani, di notte io farò, sogni tridimensionali, senza chiedere mai niente, al mondo, neanche a te, senza chiedermi perché, ti vedo da, per tutto, anche in me, ti vedo. Grazie. Facchiamo che la giuria voti, Samuele Bersani, sei vivo? Sei vivo? Sei sopravvissuto. Prego, grazie Samuele.